Ciao ragazzi oggi vi propongo un esperimento su Automobilista 2 vediamo se siamo in grado tutti di poter riempire una lobby pubblica senza fare per forza delle azioni social e vediamo se questo multiplayer è un po' cambiato malgrado tutte le novità che sono state apportate e che saranno apportate in futuro vi premetto che era sabato scorso dalle 16 più o meno alle 17.30 17.45 questi sono i risultati sulla fiducia ragazzi vi chiedo un pollice in su lasciate un commento e iscrivetevi al canale allora bene ragazzi ho deciso di fare una prova per vedere quanta gente viene su Automobilista Automobilista stiamo entrando vediamo che cavolo sta succedendo sta caricando in questo momento vediamo 20 17 ci sono veramente pochissimi server e pochissima gente vediamo se riusciamo però a far entrare qualcuno vediamo se si unisce qualcuno ragazzi intanto ci sono 30 minuti di pratica 10 di qualifica abbiamo 40 minuti per vedere se riusciamo a fare una gara con qualcuno intanto io mi alleno carats della frontera con queste mp4 storiche molto bello dovuto abbassare il force feedback 757 cavalli ragazzi questo è un mostro abbiamo messo il setup di default 5 minuti 0 persone è entrato qualcuno 8 minuti ma è entrato qualcuno 8 minuti per il primo pilota ed è pure Ducato saluta ora mi spara 1 e 15 questo incredibile come perde la la coma interiore ragazzi quasi 15 minuti un solo pilota è bellissima sta macchina mamma mia è entrato l'altro bene bene un secondo vediamo quindi adesso dovre vedono che ce ne sono è bravo è bravo è me cosa guarda come si è avvicinato bravissimo guarda là 38 millesimi e c'è un altro che è entrato eh anzi è uscito molto bene ah la fine mezzo secondo mi ha dato bravo è uscito addirittura mamma credo di aver fatto un bel tempo 21 vediamo ormai 3 minuti ragazzi mi sa che è finita peccato che peccato ragazzi che peccato davvero un peccato con queste macchine sono il sabato sono dalle 16 e 30 dalle 16 praticamente adesso sono scadute le qualifiche sì 45 minuti che peccato veramente un peccato veramente un peccato vediamo se se la fa la gara questo se la fa incredibile come quando si frena sul cordolo ragazzi tira sulla sul lato fa resistenza incredibile bellezza ragazzi sta andando eh ti sei nascosto è incredibile il dettaglio di questo force feedback mamma mia è veramente un dispiacere ragazzi questa cosa qua è veramente un dispiacere incredibile perché queste macchine sono stra divertenti quindi usalene la Grazie a tutti.